Per me andare a scuola era un obbligo. Prima la scuola e poi il pallone. I bambini rifugiati a scuola non ci possono andare. Dona anche tu al 45588 per dare a un bambino rifugiato la possibilità di andare a scuola. Costruire scuole dove non ci sono, formare insegnanti, dare ai bambini libri è una possibilità dove prima c'era distruzione e violenza. Mettiamocelo in testa. I bambini rifugiati devono studiare per vivere. Per me andare a scuola.